Anche per questo Natale abbiamo voluto mettere in campo tutta la nostra esperienza nel mondo del cioccolato con un dolce inedito che fosse il più goloso e instagrammabile di tutti. Abbiamo voluto qui alla Scuola del Cioccolato per Regina chi è un artista in questo. Grazie mille maestro, proprio così. Io sono Luca, magari mi conoscete già come Luke Hake e non potevo che accettare questa sfida. Abbiamo deciso di dare vita a un dolce classico del Natale ma che allo stesso tempo è anche molto originale, il tronchetto al cioccolato con arance e cannella che è anche molto instagrammabile. Abbiamo iniziato a preparare il tronchetto versando in una ciotola capiente l'albume, lo zucchero e il pizzico di sale e abbiamo montato con uno sbattitore elettrico fino ad ottenere gli albumi ben montati a neve. Abbiamo aggiunto i tuorli, abbiamo mescolato delicatamente e abbiamo aggiunto le farine e il cacao sitacciati. Abbiamo aggiunto a filo l'olio mescolando sempre delicatamente con una spatola dall'alto verso il basso e abbiamo cotto a 190 gradi in forno statico per circa 15 minuti. Abbiamo steso la nostra pasta biscotto, versato la confettura e poi abbiamo versato anche la crema alla cannella. Abbiamo arrotolato il rotolo e l'abbiamo fatto riposare in frigorifero. Ed ora la parte più bella è anche la più golosa quindi cominciamo la glassatura e la decorazione e per questa fase mi sono rivolto i consigli del maestro. Grazie Luca per la glassa abbiamo fatto bollire la panna, aggiunto il cioccolato sminuzzato, mescolato bene il tutto dopodiché abbiamo aggiunto il burro. Per i riccioli di cioccolato invece abbiamo sciolto del cioccolato, abbiamo portato la sua temperatura intorno ai 31 gradi, steso il cioccolato sul tavolo, con una raschia abbiamo creato dei riccioli che poi abbiamo utilizzato per la decorazione finale. Abbiamo ultimato il dolce con un tocco a natalizio e ricordando gli ingredienti che si trovano all'interno del tronchetto quindi arance candite, riccioli di cioccolato, rametti di ribes e un tocco di polvere d'oro. Questo è il nostro tronchetto al cioccolato, arancia e cannella, che grazie allo cake abbiamo reso il più instagrammabile di questo Natale. Lo definirei Istatronchetto.